buongiorno sono il dottor paderno massimo collaboro presso il cfp zanardelli come docente coordinatore tutore per i corsi di assistente familiari asa os e riqualifica grazie alle nostre qualifiche di asa os può entrare nel mondo del lavoro immediatamente come ausiliario socioassistenziale o come operatore socio sanitario imparerai a secondo del profilo di appartenenza dell'operatore socio sanitario dell'ausiliario socio assistenziale a promuovere il benessere della persona ea recuperare laddove la mancanza di salute necessita di un'assistenza da parte dell'operatore attraverso lezioni teoriche esercitazioni pratiche nel nostro ricco laboratorio e successivamente un tirocinio pratico in diverse strutture ti permetteranno di acquisire quelle competenze conoscenze indispensabili un domani nel mondo del lavoro questo grazie a percorsi strutturati appositamente per te fare l'asa o fare l'os non è un lavoro per tutti ecco perché ancora prima dell'iscrizione avrai un colloquio individuale per capire meglio quale può essere il percorso per te o per asa o per os avrai un supporto costante e continuo da un corpo docente ormai collaudato da anni che ti sopporterà non solo dal punto di vista teorico ma anche durante il tirocinio un corpo docente che conosce bene il territorio dove potrai andare operare fin subito dopo aver effettuato l'esame hai la possibilità di metterti verso gli altri a disposizione degli altri c'è bisogno di tanta umanità da parte del personale di supporto